Buonasera e ben trovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro Tg, i titoli principali dell'edizione di questa sera. Un diverbio per futili motivi degenera in un'aggressione in pieno centro storico a Rimini, un 17enne, operato d'urgenza. Vandali minorenni, alcuni under 14, creano gravi danni al gelso sport di Igea Marina, oggi in stato di abbandono, identificati e denunciati. Piove sulle cataste, niente fogheracce, questa sera Rimini e Riccione rinviano i loro eventi al fine settimana. Basket continua il periodo positivo di RBR che al Flaminio supera con pochi pateni il fanalino Latina, per Johnson 29 punti e sprazi da NBA. In pieno centro storico a Rimini un minorenne è stato accoltellato in seguito a un diverbio per futili motivi. È stato poi operato d'urgenza. Vediamo. A 17 anni ed è riminese il ragazzo che nella notte tra sabato e domenica è stato accoltellato in pieno centro storico a Rimini e poi operato d'urgenza a Cesena. Mancavano pochi minuti a luna quando il minorenne, che si trovava in centro in compagnia di altri amici, sarebbe stato avvicinato in via Cairoli da un gruppetto di giovani, probabilmente anche loro minorenni, formato da italiani e stranieri. Tra i due gruppi sarebbe nato uno scretto per futili motivi, poi degenerato nel giro di pochi minuti. L'accoltellamento del 17enne è avvenuto in via Giordano Bruno. Due fendenti, uno all'addome, l'altro alla schiena, particolarmente profondi, che hanno reso necessario un'operazione chirurgica d'urgenza al polmone, effettuata all'ospedale Buffalini di Cesena, dove il riminese è tuttora ricoverato. La prognosi resta riservata, seppure il 17enne non si è più considerato in pericolo di vita. In prima battuta, in centro storico sono intervenute le volanti della questura, poi il magistrato di turno Paola Bonetti ha affidato le indagini alla squadra mobile. Da una prima ricostruzione, l'aggressore e i suoi amici sarebbero fuggiti a piedi verso via Tempio Malatestiano. Gli inquirenti in queste ore sono alla ricerca delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private che potrebbero aver ripreso l'accoltellamento. Vandali in azione ieri al Gerso Sport, polo sportivo attualmente dismesso a Egea Marina. A finire nei guai, otto giovanissimi colti sul fatto intorno alle 19 dagli agenti della polizia locale, insospettiti dai rumori provenienti dalla struttura. Si sono accaniti su vetri, attrezzature e in particolare sulle colonnine antincendio, causando un'ingente perdita d'acqua e un principio di allagamento. L'intervento del personale di Iera ha limitato i danni. Gli agenti hanno poi accompagnato gli otto giovani al comando. Erano tutti minorenni, italiani e stranieri, alcuni anche under 14. Sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici e danneggiamento e poi affidati ai genitori. Per il sindaco di Bellaria, Giorgetti, vicende come questa non vanno sminuite o liquidate come ragazzate. È stata presentata questa mattina a Bologna la settimana della legalità. Tante le iniziative per tenere alta l'attenzione sulle infiltrazioni malavitose. Inaugurate anche la mostra Una vita contro la mafia degli studenti delle scuole di Rimini. Oltre 80 appuntamenti che coinvolgono istituzioni, scuole e privati, tra cui la mostra realizzata dagli studenti riminesi dell'Istituto Enaudi Molari Una vita contro la mafia, che racconta le vite dei martiri di mafia. La settimana della legalità inaugurata in regione alla presenza, tra gli altri, di Pietro Grasso, già presidente del Senato e procuratore nazionale antimafia, ha come obiettivo il coinvolgimento dei giovani e il mondo della scuola per creare una società impermeabile alle mafie. Queste scintille di futuro viene da un momento della mia vita particolare, cioè quello in cui Giovanni Falcone mi diede un accendino, un accendino che mi disse di tenere e l'avrei dovuto restituire se riprendeva a fumare. Naturalmente dopo le stragi non è stato più possibile. Allora io quell'accendino lo tengo sempre con me, lo sfioro, lo accarezzo, eccolo qua e questo darà la scintilla per il futuro dei nostri giovani, delle future generazioni. Vedete come lo tengo sempre in perfetta efficienza anche se non fumo. È molto importante, in Regione Emilia Romagna lo facciamo da anni, abbiamo un testo unico che abbiamo approvato nel 2016 e che tiene insieme tanti impegni proprio per combattere le mafie, per sostenere la legalità. Ma poi è molto importante il lavoro culturale, educativo, formativo. Oggi con questa mostra che è stata realizzata dai ragazzi e delle ragazze dell'Istituto Molari Naudi di Rimini mettiamo al centro proprio questo lavoro legato anche alla prevenzione, quindi al lavoro educativo e formativo. I ragazzi di oggi sicuramente non si dà molta importanza a queste cose e quindi mi ha colpito per questo perché mi ha preso molto la storia e mi sono emedesimata molto. Nel suo caso è un bambino di 7 anni che è stato ammazzato a causa del padre perché aveva dei conflitti con la mafia irrisolti ed è stata una vittima che nemmeno è stato considerato perché è stato ucciso mentre il padre tornava a casa insieme al bambino su una vespa. Diciamo che questa storia mi ha colpito molto. Si è aspettato fino a metà pomeriggio nella speranza di un miglioramento del quadro meteo che però non c'è stato e così a causa del maltempo sono state rinviate a sabato prossimo le tradizionali fogheracce di Rimini, quella al porto e quelle a Viserba, Viserbella, San Giuliano e Torre Pedrera. Rinviata sabato sera anche la fuga aracia in Piaffale Roma Riccione al museo etnografico di Sant'Arcangelo. Il capodanno contadino con relativo falò è stato rinviato a domani sera. Arrivano alcune anticipazioni sul rapporto sull'economia della Romagna che la Camera di Commercio presenterà ufficialmente tra una settimana a Forlì. Il 2023 si conferma un anno tra luci e ombre. Un tessuto economico reattivo ma con qualche scricchiolio e quanto emerge dai dati 2023 derivanti dagli ultimi scenari promettei a relativi al mese di gennaio. La provincia di Rimini registra un lieve incremento del valore aggiunto più 0,3 ma comunque inferiore al dato regionale e nazionale. Bene il settore dei servizi con la ricchezza prodotta che cresce del 2,7 per cento mentre tutti gli altri comparti sono però in flessione. Costruzioni meno 0,9, manifatturiero meno 3,5 e agricoltura meno 5,2. Male anche l'export che per il 2023 è stimato in calo dell'1,6 per cento in misura superiore alla flessione regionale e nazionale. Cresce invece del 5 per cento il reddito disponibile delle famiglie ma anche in questo caso con un trend inferiore a quello dell'Emilia Romagna e dell'Italia. Il valore aggiunto per abitante si attesta a 27.200 euro, nettamente inferiore a quello dell'Emilia Romagna e in linea con la media nazionale. In tema di lavoro il 2023 vede un miglioramento del tasso di disoccupazione che scende al 6,3 per cento rispetto al 7,7 italiano ma resta fanalino di coda in Emilia Romagna dove la disoccupazione è ferma al 4,8. Le cose non vanno meglio in termini di produttività per addetto, nel riminese è stimata a 63.400 euro contro i 73.500 a livello regionale. Il presidente della Camera di Commercio Carlo Battistini guarda il bicchiere mezzo pieno ed evidenzia il dinamismo e la forza del sistema produttivo romagnolo ma anche la necessità di percorrere la via alta dello sviluppo con una forte convergenza della governance territoriale che porti, dice, a scelte sempre più condivise e capaci di sostenere la competitività della Romagna. Circa 15.000 euro a favore della Caritas Cittadina di Riccione sono il ricavato del pranzo solidale che si è svolto ieri e anche di alcune iniziative, un aiuto prezioso per sostenere i servizi che ogni giorno vengono offerti nella sede a Spontricciolo. Circa 300 persone sedute a tavola nella tenso struttura della parrocchia di San Martino per sostenere la Caritas di Riccione, un momento di festa, di convivialità, di buon cibo reso ancora più prezioso dalla finalità solidale. Pranzi e lotteria hanno infatti prodotto un utile di 8.500 euro che saranno destinati ai tanti servizi che quotidianamente nella sede di Spontricciolo vengono offerti alle persone in difficoltà. La nostra associazione tutti i giorni fa una distribuzione di 60 pasti caldi, diciamo che su 60 pasti ce ne sono circa una quarantina di italiani e anche di Riccione e poi abbiamo il servizio a docce due volte alla settimana, la distribuzione dei vestiti, laviamo anche i vestiti e poi abbiamo anche il centro d'ascolto dove loro si possono rivolgere quando hanno bisogno, per necessità. Un impegno prezioso che dà risposta ad una povertà crescente che a causa della crisi tocca sempre più persone. Da quando ho il compito di essere assessore ai servizi sociali purtroppo ho dovuto notare che c'è una richiesta sempre maggiore di bisogni e di necessità dal quotidiano alle cose più importanti. Noi cercheremo di essere al fianco della Caritas perché se stiamo tutti uniti riusciamo a realizzare qualcosa di veramente necessario per le persone che hanno più bisogno. Tantissimi volontari che hanno contribuito alla riuscita del pranzo, dal gruppo di signore che hanno dato una mano alla brigata dello chef ai giovani dei gruppi parrocchiali che hanno fatto i camerieri. Importante anche il sostegno di famiglia arciunesa, del club 41 e del Lions Riccione. Lo staff della mia cucina che ha cooperato per la realizzazione è di sei persone, ragazzi che hanno formato una squadra bellissima che senza chiedere nulla in cambio hanno partecipato, si sono messi a completa disposizione. Ci dà l'opportunità di dare una mano a questo ente che sicuramente ha una funzione molto importante soprattutto in un momento di crisi e di difficoltà come questo. Non nascondo che è una grande soddisfazione per famiglia arciunesa poter fare questa donazione di 6.000 euro per la Caritas cittadina e naturalmente un ringraziamento va a tutti i riccionesi che hanno partecipato alla rassegna teaterale dialettale La Sgrignarella che ha avuto un gran successo, siamo ritornati dopo tanti anni. Siamo al basket, RBR non fa sconti al fanalino latina di coach Sacco e continua il suo ottimo momento con nove vittorie nelle ultime undici partite. Justin Johnson ritocca il suo record di punti con la canotta bianco-rossa. Seconda partita di Fidel Flaminio per Riviera Banca che dopo aver battuto Vigevon ospita per il recupero della terza giornata della fase orologio, la benacquista assicurazione latina, ultima della classe nel girone verde con 10 punti. Il primo parziale è marchiato a fuoco da Johnson e Romeo. L'americano di RBR realizza i primi due punti del match. Romeo il 4-7. Johnson il canestro del nuovo sorpasso e subito dopo quello del 13-10. Poi la tripla del 23-16, suo tredicesimo punto. Romeo chiude la frazione con la tripla che lo porta in doppia cifra, 27-23 al decimo. Il secondo tempino inizia con un 7-0 di Riviera Banca, griffato Simeoni, Masciadri, Marx. Più 11 sul 34-23. Latina risponde con un 10-0 con quattro punti di Parrillo, chiuse dei libri di Alipiev e torna a meno uno, 34-33. E Johnson a suonare la carica con due triple, 40-35. Prima dell'intervallo anche Masciadri segna dall'arco, 7 su 9 per Rimini nei primi 20 minuti. L'1 su 2 della lunetta di Simeoni manda le squadre negli spogliatoi sul 44-37. Al rientro il protagonista assoluto è sempre lui, Johnson, 6 punti per il 50-42. Marx si fa male una spalla, è costretto a uscire ma rientrerà. È il momento di Anumba, che realizza dall'arco, e completa un'azione da tre punti. Rimini va sul più 12, 58-46. Mayfield prova a tenere a contatto i suoi con una tripla, ma Johnson schiaccia il nuovo più 11, 62-51. Borra con un bel gancio e Romeo in contropiede riportano i ragazzi di sacco a meno 7, 64-57. Tomassini, fino a quel momento in sordina, decide di diventare decisivo. I suoi cinque punti di fila scolpiscono il 69-57 del trentesimo. In avvio di ultimo quarto, Scarponi e Masciadri portano RBR sul più 17, 74-57. Riviera banca da spettacolo, con un'azione da cineteca sull'asse Tassinari a Numba-Johnson, 82-66, Johnson a quota 29 e Flaminio in tripudio. 8 punti di grande nel finale ritoccono il massimo vantaggio. Prima più 19 sull'87-68, poi più 21 sull'89-68. L'ultimo canestro di Elipiev. Rimini batte Latina a 92-73. Siamo molto soddisfatti in un ambiente come al solito fantastico, però era una partita difficile perché era una partita di quelle che te devi vincere, cioè non è che ci può fare della filosofia, devi vincere. In attacco per lunghi tratti siamo stati onestamente molto molto bravi perché la palla girava come un flipper con la volontà del giocatore di far sempre l'estra passaggio e non è una cosa facile. In più ovviamente cerchiamo di metterci nelle posizioni giuste per fare l'estra passaggio, non sempre ci riusciamo perché poi c'è anche la difesa, c'è anche l'avversario, però abbiamo costruito tanti buoni tiri giocando sia perimetrali che da sotto, quindi non essendo monocorde. Questo è un grande vantaggio per noi, abbiamo fatto tantissimi punti e soprattutto merito della circolazione di palla e quindi dell'altruismo che ci mettono tutti i giocatori. E coach Sandro Dell'Agnello sarà ospite questa sera nella parte dedicata al basket della nostra trasmissione calcio.basket diretta dalle 19.35 nella parte dedicata al calcio. Ospiti in studio Simone Campolattano responsabile per la Rimini Calcio dei rapporti con l'amministrazione comunale, l'allenatore del Misano Thomas Vagnoli e l'allenatore della Vis Nova Feltria Fabrizio Costantini. Siamo in conclusione, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it e la nostra piattaforma video di Caroplay. Grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione e l'augurio di una buona serata.